Biscotto È il cibo Cuoco Lui non mangia il manzo Cioccolato Ho il piatto L'uomo ha la crema al cioccolato Uomo Ha La Crema Al Cioccolato L'uomo ha la crema al cioccolato Lui ha acqua nel bicchiere Io ho il gelato al caffè Al Il Gelato A Gelà Il Ho Al Gelà Il Caffè Io ho il gelato al caffè Io ho il gelato al caffè Gelato Caffè Il Gelato Al Gela Il Il Gelato Al Caffè Io ho il gelato al caffè La donna ha la crema al caffè La donna ha la torta al cioccolato Il Il cuoco ha il formaggio nel piatto Cuoco A Il Formaggio Nel Piatto Il cuoco ha il formaggio nel piatto È il cibo Ho il piatto Ho il piatto Ho il piatto Il Vi 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 vl Favore Zucchero Crema Tazza Acqua L'uomo mangia il gelato al cioccolato Favore Lei Biscotto Scrivi Lui Il biscotto Crema Mela Caffè Loro Uomini Crema al cioccolato Libro Scrivi Latte Lei Le Il Ragazzo Mangia Il Biscotto Io mangio il gelato al cioccolato Mangio Il gelato al cioccolato Lui Mangia L'ha Gelato al cioccolato La donna ha una tazza Donna Donna Ha Una Tazza La donna ha una tazza Lei Beve Latte Lei Beve Non Caffè La donna ha una tazza Io Mangio Il Crema Al Cioccolato Cioccolato Lui Caffè Lui Caffè La donna ha una tazza Lui Caffè La donna ha una tazza Grazie a tutti.